Tra l'altro si sono coperti benissimo sulle fasce Un quadrado e Zopolato Neves E Carlos Augusto Carlos Augusto Zopolato Neves È il suo nome completo Lo sta rivelando perché io gli ho chiesto Sai un po' di più di questo giocatore Perché io non lo conoscevo tanto, grazie Sto preparando la partita per me con le ditte